Ciao a tutti, sono Andrea di scommesso.com e recensioni.com e prima di iniziare con i pronostici della quindicesima giornata di Serie A vi invito ad iscrivervi al nostro canale e a condividere il più possibile in questo modo non vi perderete neanche un pronostico, una strategia o le nostre guide su Bookmaker con licenza di M La schedia di oggi comincia con Atalanta-Venezia, su cui abbiamo puntato 1 Bergamaschi in grande spolvero dopo la bella vittoria per 1-0 sulla Juve e ora saldamente quarti in classifica solo ai 3 punti dall'Inter e a meno 7 dalla vetta Veneti, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro l'Inter A nostro avviso il divario tra le due compagini è davvero molto ampio e quindi crediamo che l'Atalanta vada a vincere in casa contro Venezia, 1 fisso Seconda partita, Salernitana-Juventus, dove abbiamo puntato x2 Bianconeri, reduci dalla quinta sconfitta in campionato, 1-0 contro l'Atalanta Campanica arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Cagliari con il quale condividono l'ultimo posto in classifica solo 8 punti Nonostante questa Juve sia in piena crisi dopo il 4-0 subito in Champions contro il Chelsea e il 1-0 contro l'Atalanta, crediamo che Allegri non vada, diciamo che non può proprio perdere anche in quel di Salerno e con l'ultima in classifica soprattutto Per questo puntiamo sulla doppia chance x2, ovvero pareggio o vittoria a Juve Terza partita, Inter-Spezia, 1 L'Inter di Simone Enzaghi arriva dalla vittoria per 2-0 sul Venezia Liguri, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Bologna I nerazzurri sono in buono stato di forma e arrivano da 3 vittorie su 3 nell'ultima settimana 2 in campionato e 1 in Champions Quindi crediamo che possa prolungare questo filotto in casa contro lo Spezia La nostra bet è 1 fisso, pagato 1,19 volte alla posta su snai.it Ultima partita, Genua-Milan, su cui abbiamo puntato 2 Rossoneri, reduci dalla pesante sconfitta interna per 3-1 contro il Sassuolo Genuani che arrivano dallo 0-0 contro l'Udinese Il Milan, se vuole restare sul treno scudetto, deve assolutamente invettire il trend attuale Un punto in tre partite E la sfida contro il Genua, terzo-ultimo in classifica, sembra l'occasione giusta Noi bettiamo sul 2 fisso, ovvero vittoria a Milan Passiamo ora ai risultati esatti della quindicesima giornata di Serie A Cominciamo con Salernitano-Juventus Dobbiamo pronosticato lo 0-2 o 1-3, pagati 6-50 e 12 su snai Seconda partita, Genua-Milan, dove abbiamo pronosticato l'1-2 o 0-2, pagati 8-10 e 9 su Marathonbet Ultima partita, Sassuolo-Napoli, dove abbiamo pronosticato l'1-2 o 1-3, pagati 8-12 su Eurobet Prima di concludere il video, alcuni consigli extra per la quindicesima giornata di Serie A Cominciamo con Fiorentina-Sampdoria, ovvero 1,5 Verona-Cagliari, under 4,5 Bologna-Roma, ovvero 1,5 E Lazio-Udinese, ovvero 1,5 Bene, per oggi è tutto In descrizione troverai i link alle pagine dei nostri pronostici e maggiori informazioni su snai Ti invito ad iscriverti al nostro canale e condividere il più possibile per non perdere i prossimi pronostici sulla Serie A Ma anche strategie scommesse tutorial per i pellevi depositi di denaro su migliori siti scommesse con licenza DM Il video è finito, buone scommesse